E ciao a tutti ragazzi sono Luca Red, benvenuti in questo nuovo video Quest'oggi ragazzi vi andrò a dire che cosa farò se la Roma arrivasse in finale di Europa League o se la vincesse Se arrivasse in finale di Europa League Beh ragazzi, io sono di Roma E a Roma c'è due modi O andare a Bracciono, anche se sta dall'altra parte di Roma E farmi un bagno al lago Anche se sarà già lì da me lo faccio Oppure andare al mare Anche lì se sarà gelata me lo faccio lo stesso Oppure se la vincesse Faccio queste due cose E poi con dei miei amici stiamo pensando di farci a piedi Dalla Giustiniana dove abitano loro A Roma Termini, quindi al centro Da Roma Nord a Roma Centro a piedi Ma lo facciamo solo se la Roma la dovesse vincere Ma giocandola a semifinale sul campo E farò qualcosa del fiume e del mare Solo se la Roma arriva in finale Passandosi per la semifinale ovviamente Ma giocandola sul campo Quindi contro l'United E contro E contro Al Trafford e all'Olimpico E che dire E se volete Il video in cui lo faccio Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E quindi se volete Il video di queste cose Che lo faccio Lasciate tantissimi piace Sotto questo video E che dire ragazzi Per farvi vedere tutto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Condividete con tutti i vostri amici e amiche E noi ci vediamo Come sempre Con un nuovo video Ciao ragazzi